Ciao a tutte, eccoci qui con un nuovo video. Oggi voglio parlarvi di questa azienda che si chiama Sorgente Natura. Ha tutti i prodotti biologici, quindi tutti i prodotti naturali. Mi ha colpito tantissimo questo catalogo, perché a parte che ha veramente una bassa scelta di prodotti, quindi dal cibo, ve lo faccio vedere, dal cibo a la cura del nostro corpo. Quindi ci sono gli integratori, ci sono i trucchi, ci sono tutte le cose per l'igiene personale. Ma la cosa che mi ha lasciato a bocca aperta è stato proprio sapere che ci sono dei prodotti biologici anche per i nostri animali, quindi anche lì sono rimasta così, perché non sapevo che ci fosse sia il mangiare che per pulire il cane biologico, quindi sono rimasta un po' così, quindi anche lì sono rimasta, come vi stavo dicendo, un po' così. Allora, questa azienda mi ha inviato dei campioncini, che alcuni li ho provati, alcuni no, ma veramente me ne ho mandati parecchio. Mi faccio già vedere un pochettino cosa mi ha inviato e poi vi dirò anche le cose che ho provato. Allora, mi ha mandato questa crema, che è per calmante dopo sole, quindi lo utilizzerò sicuramente nel periodo estivo. Poi questo bagno doccia di Mediterraneo, poi questa crema Prime Rughe, quindi va benissimo, la potrò iniziare ad utilizzare. Poi lo shampoo ristrutturante, me ne ho mandati due. Allora, non vi faccio vedere gli altri perché sennò sembra di ripetere una roba intera e non finirò mai questo video. Questo shampoo qui l'ho provato, mi sono trovata benissimo, poi avevo provato una crema, che non so dove ho messo il campioncino, comunque ho provato una crema per il viso, per le pelli secche e mi ci sono trovata anche con quello bene. Insomma, ho ricevuto abbastanza campioncini. Io vi lascio giù nell'info box il link per accedere nel sito, se volete dare un'occhiata, se siete comunque attenti all'inci, andate perché ha tutti i prodotti naturali, quindi sia il cibo che anche per la cura del nostro corpo. Trovate anche il make-up, insomma, trovate tantissime cose. E come vi stavo dicendo anche prima, trovate anche, se avete degli animali, i prodotti anche per loro. Quindi, devo dire che è un'azienda che mi ha lasciato un po' così. Non perché collaboro con questa azienda, ma devo dire che mi ha lasciato un po' così. Ci sono stati due o tre campioncini che ho provato che non mi sono piaciuti, che sono... Aspettate, io ve li faccio vedere chiusi, ma non so veramente dove li ho messi quelli che ho provato. Comunque, questo qui, che praticamente ha un contorno occhi e labbra, di questa marca qui, non so se riesco a farvela vedere. E poi, quella che mi ci sono trovata malino, è proprio questa qua, la calendula. Quindi sono stati proprio questi qua che non mi sono piaciuti. Però per il resto, devo dire che va bene, mi sono trovata bene. E niente, se vi interessa vi lascio giù nell'info box il tutto per cui andare a dare un'occhiata. Spero che questo video vi possa essere utile, vi do un grosso bacio e ci vediamo presto. Ciao!